Attenzione! Questo video fa parte di una sequenza interattiva. Clicca qui per tornare all'inizio. Domanda 9. Quale nazione ha vinto più medaglie d'oro nel nuoto sincronizzato? Stati Uniti, Giappone, Russia Aiutino! L'ultimo oro risale ai giochi di Pechino del 2008 Errore! Hai sbagliato! Figata! La Russia detiene il record nei giochi olimpici con 6 ori vinti nel nuoto sincronizzato.